Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi un episodio narrato da un libro di un figlio spirituale di Padre Pio che è venuto a mancare proprio qualche giorno fa e lo vogliamo ringraziare soprattutto per quello che ha donato a tantissimi soprattutto per quello che ci ha raccontato e che a volte anche mi ha raccontato in alcune interviste parliamo di Don Provo Vaccarini che è stato un papà è stato un nonno poi vedovo ma è stato anche un sacerdote che è riuscito anche a pensate un po' a celebrare il trentesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale ecco ed è venuto a mancare morato al cielo come avrà ridotto il suo padre spirituale tanto caro passati i cent'anni ecco di questo siamo siamo contenti nel ricordare col sorriso Don Provo Vaccarini che ci ha raccontato in un suo libro anch'io pendolare dal padre un episodio che ci fa un po' riflettere e che ci dà la possibilità a tutti noi di avere un po' ancora questa via questa strada della conversione ancora aperta perché? perché Don Provo racconta che un giorno venne qui a San Giovanni Rotondo un mediatore toscano un grande bestemmiatore così lo definisce Don Provo si avvicinò a padre Pio al confessionale della sacristia antica si confessò padre Pio li vede del ciucco ecco tu sei un ciucco diceva spesso ma lui preso anche da questa voglia di raccontarsi e di pentimento padre Pio gli diede la soluzione però disse tu fila dritto perché un'altra volta se succede io ti dio un gran calcio nel sedere noi non facciamo altro che andare a riportarvi quelle che sono le testimonianze e quella anche di questo mediatore che poi l'ha messa per iscritto questa testimonianza in una sua memoria ebbene accadde proprio questo che lui ritornò a casa sua a Firenze mentre era al lavoro stava concludendo un affare a quel punto cominciò di nuovo a bestemmiare di nuovo non una volta o due volte proprio durante questo affare che discuteva animatamente e ad un certo punto si sente proprio che viene preso a calci un vero e proprio calcio nel sedere fortissimo quasi lui spiega e racconta che venne quasi sbalzato di almeno mezzo metro quasi spinto questo uomo che aveva il suo interlocutore dinanzi si girò di scatto per vedere chi fosse stato e per aggredirlo ma in realtà non c'era nessuno perché erano da solo in piazza a quel punto quest'uomo racconta da un provo nel suo libro si fermò pensò all'ammonimento di padre Pio e cominciò a piangere come un bambino per il pentimento e per la commozione quel filadritto di padre Pio lo ricordò per tutta la vita che si convertì